Stringorati Stringorati Grazie. Stiamo chiedendo le cremali. Allo, 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 zna li sve radi kako treba? Allo, allo... a 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 non so stavite lì neki check point a Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno, non c'è nessuno. 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 Non c'è nessuno, ma Elder. Sve già è stato fatto, va bene. Sve che treba è da climb by un chamber. Sve che treba è da climb by un chamber. Ovo lì, cosa ti fai? Ti sei che di sex, ma tu ti fai. Niente fai. Niente fai. Ovo è solo non è che non è così, da fanno molto interessante. Non c'è la storia, ma non c'è. Ovo è un' memoria, non è un' memoria. Ovo è un' memoria, non è un' memoria. Ma è un' memoria, non è un' memoria. È un' memoria, non è un' memoria. È un' memoria che ti fai che ci faccio. . 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 C'è non mi fa hearing? I ho proprio fatto le scendere, e di svegliere i suono dal suo segno. C'è non mi fa l'ai passa? C'è che tu non mi fa prenderlo? C'è non mi fa prendere? C'è non mi fa prendere? C'è non mi fa prendere? Noti cosa ve ho pensato? C'è il punto di design? C'è chi? C'è chi ti sve già chavata? C'è chi è tu il tuo kurac? C'è chi è tu il tuo momaggio? C'è chi? non sei mi chiede ti chiede di sarađere con le cose sarađere con le cose sarađere con le cose posto di dei installi e sarađu sarađu ebote 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 čekaj sarađuješ čovječe šta radiš ti tebi nije dobro ovalim srce nije dobro it se leći Sì. 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 Non lo so che ti ho detto! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Guarda! 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 Ludo 德 Guarda! 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 Sì. non sai cosa ora un giorno un giorno è una memoria che cosa mi nervi più più Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. 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 Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. 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 Ok, secuenci 6 è gollo. Ok, secuenci 6 è gollo. Si. Un d'amorec общo. In effect. Ovo s 그리고 che c'è. Ti 有EN. Vi l'ai su... Grazie ti prestigio da promieni su persona, mamma. mio amore, non so freddo. tra il tuo cuore e il tuo dono, la malattia dolce più che la cura. Oh Jeanne, tu ero sempre molto protettiva in questo locale. Mi sempre regretto... Eveline, mi sono scusate per interruzione, ma ho bisogno di l'assistante. È urgente, ovviamente. Sì, sono scusate per interruzione. Io ti amo, papà. C'è un eslato, Giorgio. Mi prometto un passaggio a il nord, ma durante l'escazione, è stato scoperto da soldati. Ma... ... ma... ... c'è qualcosa che puoi fare? Con il tuo negozio, e il tuo contatto in la bayou? Sì. 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 ars. Sì. Ok, mi piace molto. Ok, sono arrivato alla fine di giro, sono arrivato a internet, c'è ancora una misura. P66 misura. E' anche la ultima misura di questa sequenza. come giù? come giù? come giù? come giù? si? scusate 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 cusate scusate ma Qu'è ti? Qu'è ti? Qu'è ti? Sì, non lo scriviamo, non è normalo. Od 7, do... I opet idiamo u Bale. Ecco da lo sai. In Black Flame non lo scriviamo, non lo scriviamo. Non lo scriviamo, non lo scriviamo. Non lo scriviamo, non lo scriviamo. D'amico da lo scriviamo. Sì, non lo scriviamo. Sì, non lo scriviamo. Sì, non lo scriviamo. Andiamo. Ho, ho. Grazie. Evelina. Evelina. Mi je tako dosadno, sačak ne želim da ne menjam bojo. Non ci sono dei supranti a qualche... come dire... Patriote. A l'arco del swamp. Patriote. Beh, sai, da nord. Rebellio, abigolo... Una opportunità di un altro nome. Ma per qualche motivo, gli spagnoli stanno cercando di prendere supranti. Questo sembra molto familiar. Non pensi... Oh, non ho cercato di pensare. Beh... Ok... Ehh... Ehm... Oh, questo è un pozzo. Herto. Putz il rato... Cosa dobbiamo prendere? E' un po' il giusto il giusto, ora è venuto il più difficile in la storia di gaming. La storia di questo è la storia di gaming. E la storia di qui è la storia. Quanto è la storia di questo? Ok, ove su same pucati, non nemmo niente. Dugo. Ah, shit. Ah, shit, i no nemmo niente. I niente. I need one to go. I need one to go. I need one to go. I need one. Let me go. . . . C'è la possibilità di usare. C'è la possibilità di aggiungere qualcosa che per datacolino non funziona. Ok, quello che sono andato è uguale a quello che aveva una bici. Non ciò perché sono io vivo. Sarce la possibilità di usare in un'esplenza. Un'esplenza ultima. Questa è un'esplenza. Questa è un'esplenza. Questa sono un'esplenza, ma non c'è più di da fare. Questa è un'esplenza. Questa è una cosa che è molto lunga. è tolico attraverso non so, non so! Tutto che il governo prometto e un po' dei miei bambini di baiù. Sì, ma che non si vedi? Non da nessuno che stanno spettando. M. Hopton, come è segretario il tuo spagnolo di spagnolo? Sì, ma come si vedi. Mi sembrava di ricordare il quello che ti fa fare con il governo di spagnolo. No, 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 no Vazquez, credo, era il suo nome? Il ragazzo è qui. Il ragazzo? Mr. Hopton, se vuoi le vostre prodotti per la Louisiane, l'addizionale sicurezza sarebbe bella. Posso suggerire a te Giorgio? Certamente. Se è disposte a combattere, i Patriot Cars lo sbagliare. Siamo combattere per te. Perché io lo amo Giorgio. Giorgio n'è bio onaj belac. Sì, Giorgio n'è bio belac. Sì, Giorgio n'è bio belac. M. Roussillon e io valiamo il vostro business. Sì, lo so. Patriotti valiamo il vostro support. Nidene emisie. Ok, n'è toliko... Nidene emisie. Ok, sreće. Nidene toliko dugočka. Ti, kako si rekao, da si misli da će biti biti. Nidene emisie. E, sada, ako budemo pravi sa spravo di Giorgio, da ga odradimo. Sada, gdje je Giorgio Flight? Aaaa. Giorgio Flight. Da nešto zagubili malo pre... Da nešto zagubili u... Nidene emisie. Nidene emisie. Nidene emisie. E' stato solo srani z'arci. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Ok, questa è la sequenza in giro. Ok, questa è la sequenza in giro. Ok, ora sono in qualche parte, ora dovrò sapere qui è Company Man. Meet Connor E vediamo qui con l'amico di Stefano, con l'altra Stefano. Vediamo. Andiamo. Conor. L'amico Davison, dell'Athiopi. L'Athiopi è passato qui, guardate la destrazione che hanno lasciato. L'amico è in questo modo, ci saranno seguirli con loro. Alla qui, a través dei bambini. Un pezzo! Pagliare! C'è quello che c'è? C'è quello che c'è? Ok, perché abbiamo avvicinato il tempo? Cielo 18 secondi, ok? Conor! 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 Siamo all'interno! Conor è per noi! Conor è per noi! Sì 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 C GBP Sì Sì Ma questo non si può fare con il bianco, ma il bianco non si può fare con il bianco, perché non si può fare con il bianco. Non ho capito. Cosa dire? Connore, vediamo l'anico perché lo può fare con il bianco. L'anico Connore. L'anico. D'accordo, è stato un plan, perché Connore non si può fare con il bianco. Sì, vediamo che il bianco, non si può fare con il bianco, perché non si può fare con il bianco. Ok, 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 ok. Ok, ok. Sì, posso trovare un po' di nuovo? I will go around and divert attention. I can't wait until the end of the game. I can't wait until the end of the game. Conor è stato molto divertente. Ora conor è stato... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Oh no, non si può fare un jack. Non lo so, quando si è stato fatto, non mi sono chiamato. Non si è solo Aveline, non si è stato fatto con Connor. Si è stato fatto, Aveline, ha fatto con Connor. C'è il suo nome? C'è il suo nome? C'è il suo nome? What? George! George! We're still back. I don't see the poor thing when Connor says to you. George, when Connor says to you those are good. They should not play the role again. They should do. è un bravo non ho capito che ho avuto l'olipo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, adesso con Conor può mostrare la visione, perché Conor si non è mai arrivato, infatti, bisogna stavare ancora un giro, magari in un giro, magari in un giro. Conor è un piccolo figlio che è... I'm sure he's in front of me. I'm sure I'm sure he's in front of me. I'm sure I'm sure I'm in front of you. I'm sure I'm in front of you. Connery ha' unico solo una giusta, e' due DLC. E' due 3 DLC. E' come. E' come. E' misliš li ti tako da je Conner mažda treba da vidi još neku ivicu? Još neku misiju ovdje čak. E' mi se vraćam u kući. Totalno. Če' ja ne znam, Ubisoft ne moli Connora. Ok, a ja jesam Necio fan, ali ja mislim da Ubisoft prejša malo drka Necio. Iskreno. Če' juci ima 3 igrice i pominje su sako ma se esi skriliu nakon toga. Još ima 2, još ima 5. Još ima 5. Još ima 5. Još ima 6. Još ima 5. Još ima 5. Ho in close conor voksini lahko di ko d instansi. Ja sam ima 6. Conor je underrated. Oh, Aveline, do not be so angry. Do you think that I do not know where you go when you climb through your window to the rooftops at night? How you play the dainty daughter to your doting father? Tu lo vedi? 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 Ok, cosa ti scriveri? No, no. No, no. No, no. Wtf. To se lo vedi? Tu lo vedi? Más tarde para eso, ¿verdad? Mis hombres te mató, entonces... Maceham è Templar. Maceham è Templar, credo che l'abbiamo uccionato alla fine. Maceham è compagnia. Maceham è compagnia. Maceham è compagnia. Non credo a te. Aveline, ti amo. Ti ho portato come la mia. Mi non potete portare i bambini, ma hai portato alla mia vita. Questa mia vita hai portato a me. Mi dimenticato. È necessario. La mamma è di proteggere. Ma guarda a me ora, nel luogo della verità. Si? Ti che avete quindi benissimo che il dolore della vita che vivevi in segretà, spostando la sua potenza con tetticoati e schifo. Cattando l'obbedienza alla loro che deniano te il diritto... ti avete compagnia. Io sono davvero? Mi accro. Ma c'è accordo ti non sembra, nemmo che passi un pollo di me. Ma c'è solo, non mi evidenti. Non mi fa lasciare i suoi te talenti, tu sei trovo valutico per me. Come un po' di manipulare, non mi fa lasciare i suoi. Agapè! Non mi fa lasciare, Agapè! non c'è Aveline non c'è a Aveline se che non c'è a Aveline non c'è a Aveline non c'è a Aveline non c'è a Aveline secuente ok, c'è la prossima secuente abbiamo ancora 3 emisie fino a qui è meglio di Aveline il tempo è meglio di Aveline che pensi, non c'è più è meglio di Aveline ora vedo cosa sarà e poi vedo il tempo non c'è non c'è non c'è è la mia spagnola e ora vedete la sua scuola è la sua responsabilità a non c'è la mia io ero un bambino quando mi portavi mi portavi a mi portavi a mi portavi a mi portavi a la mia moglie è la mia spagnola non c'è 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 un po' un po' un po' un po' non c'è E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po'. Non, è un'illusione. 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 è un'illusione.